Ciao, sono Riccardo di Renovo e oggi vi racconto quello che la nostra azienda sta facendo da anni per il mondo delle scuole. Anche durante la pandemia non abbiamo assolutamente smesso di concentrarci per cercare di portare la nostra tecnologia nel mondo ideale per le nostre scuole. Siamo leader di mercato e primario partner tecnologico innovativo sin a partire dalle scuole dell'infanzia fino al mondo del lavoro e sicuramente anche al mondo accademico. Questa tecnologia che noi cerchiamo di portare nelle scuole in maniera utile e per rendere l'esperienza digitale confortevole e produttiva ci permette di essere presenti sia nei banchi delle classi digitali sia negli ambienti delle segreterie scolastiche che sono utili chiaramente a gestire la scuola a 360 gradi. Grazie all'ecosistema che abbiamo con i nostri partner come Microsoft, Google, Intel, AMD e le innovative aziende che stanno sviluppando suite software per il mondo delle X-Realities. Tutto questo passa anche da una serie di prodotti ingegnerizzati per il mondo della scuola che sicuramente hanno nella durata della batteria, nella resistenza e robustezza dei prodotti, nella ricca offerta di servizi e soluzioni come Premium Care e Land School il loro punto di forza. Non dimentichiamoci che le tecnologie stanno evolvendo e stiamo guardando con grande attenzione anche alla smart collaboration e all'integrazione di workstation specifiche e monitor ad alta performance grafica per coprire ogni esigenza degli studenti di oggi. La nostra sfida è quella di preparare ogni persona insieme alla scuola al mondo del lavoro del domani, sempre con attenzione anche al design perché ogni studente ha anche diritto di avere un prodotto oltre che utile molto bello. Studenti grazie ancora a voi e ai vostri docenti perché insieme alla nostra tecnologia percorrete la strada per vincere le sfide del mondo del lavoro del domani e come non dire ci vediamo presto tra i banchi. Grazie